Sarà una passerella ispirata ai fasti della dolce vita e accompagnata dalle musiche del trio Il Volo e di Laura Pausini, quella con cui Simone Racioppo si prepara a conquistare l'Arab Fashion Week di Dubai. Lo stilista abruzzese, già apprezzato in Francia e in Cina, tenta la scalata al mondo orientale portando con sé la cifra stilistica delle sue creazioni, linee e tessuti preziosi, asimmetrie, punti luce, ricami, colori netti e idee senza compromessi, capaci di far emergere il carattere di ciascuna donna. La sfilata è stata creata appositamente per l'Arab Fashion Week di Dubai, con una linea che ruota attorno al concetto di abito gioiello. La settimana araba della moda in programma dal 9 al 12 maggio è organizzata dall'Arab Fashion Council, la più grande autorità della moda del mondo arabo che rappresenta 22 paesi arabi. È riconosciuta come una delle cinque più importanti settimane della moda al mondo assieme a quelle di New York, Londra, Milano e Parigi. Raccioppo in Oriente ha già ottenuto un primo importante riconoscimento realizzando due abiti per una nota famiglia libanese in occasione di un matrimonio nell'alta società di Beirut, tra cui un abito da sposa in organza, impreziosito da pizzi e 2500 cristalli oltre a pietre ricamati a mano. Ad accompagnare lo stilista nella spedizione di Dubai ci sarà uno staff di 10 persone, quasi tutte di origine abruzzesi.